in contatto diretto con Dio. Vedete qui dietro di me c'è scritto anche che il Signore Gesù è la via, la verità è la vita. Qui c'è la lista, la lista del 17 febbraio che voi siete venuti a vedere e a prendere grazie a Dio. Ci sono le persone che sono venute a trovarci, c'è anche Franco all'esterno. È stata letta dalla parola di Dio di queste cose che sono intorno ai demoni, gli indemoniati gergeseni, e anche che Gesù calma l'acqua, il vento e il mare e come questi demoni volevano entrare e erano già entrati nelle persone ma poi hanno chiesto al Signore di farli entrare nei maiali e avevano detto perché ci vuoi tormentare prima del tempo, cioè prima di mandarci all'inferno come dice nell'Apocalisse, facci entrare in questi maiali. sono entrati nei maiali che li hanno fatti cadere nel precipizio per poter uscire dai maiali e andare in altre anime. Allora ringraziamo il Signore per le persone che sono venute e vediamo se adesso c'è qualcuno tra queste persone che ha qualche domanda da fare. Alzi la mano! Allora ringraziamo one